Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Carissimi amici di Radio Domina Nostra, non abbiamo nulla da dover temere se ci siamo rifugiati in questa nuova arca di Noè che è il cuore immacolato di Maria. Vorrei oggi rivolgere una parola di fiducia, di speranza, di incoraggiamento a tutti i consacrati che a Verona ci siamo rivolti al cuore immacolato di Maria, di fiducia perché come dice il Monforte questa gran signora spedirebbe milioni di angeli pur di proteggere anche uno solo dei suoi consacrati, di speranza perché il Monforte dice già mai un consacrato di Maria sarà indotto dagli errori di Satana e dall'eresia perché la Madonna lo protegge e di incoraggiamento. Ci siamo rifugiati in questo cuore immacolato di Maria nel tempo della grande apostasia, ci stiamo rifugiando dentro l'arca di Noè, si chiude la porta mentre il diluvio dell'apostasia e le tenebre dell'abominio della desolazione invadono il mondo con l'apostasia e la Chiesa con l'abominio della desolazione. E dentro questo cuore immacolato di Maria non ci mancherà nulla, non dobbiamo aver paura, la paura non viene da Dio, la paura viene dai nostri cuori egoistici. Dobbiamo credere che questo tempo, il tempo nel quale la Madonna ci raduna come suoi consacrati e dentro quest'arca di Noè che il suo cuore immacolato, come Gesù ha detto alla beata Alessandrina, ci conduce sulla strada giusta. Voglio invitarvi a pregare per questa intenzione dei sacerdoti che verranno dopodomani, 29 giugno, qui a Piccola Nazareth, nel centro di proprietà privata di Piccola Nazareth, per un incontro molto importante del quale naturalmente vi dettaglierò. Voglio invitarvi a pregare, figlioli cari, perché riusciamo con serenità a stare dentro il cuore immacolato di Maria lasciando che sia lei che ci guida. E vorrei invitare tutti quelli che vi siete un tantino smarriti, che vi siete un tantino preoccupati, che sappiate leggere con molta attenzione i segni dei tempi. Questa categoria è molto importante. Gesù nel Vangelo dice sapete cogliere quando soffia vento d'oriente il momento in cui arriva lo scirocco? Sapete cogliere che arriva l'estate dall'albero di Fico che mette i primi germogli? Come mai non sapete leggere i segni dei tempi? Ecco, invito tutti voi a rasserenarvi e ad andare avanti con fiducia. Ci aspetta il raduno di Verona a settembre che sarà un raduno di preghiera e di riparazione eucaristica per tutti gli oltraggi fatti a Gesù e Eucaristia, per il modo con cui si è passati dalla messa santa del vetusordo alla bizzarria e infine all'abominio della desolazione vera e propria. E siccome io sto pregando per tutti voi in questo momento nel quale tanti sono disorientati e molti anche, diciamo così, rispondono più con l'emotività che non con la fede, ecco vorrei leggervi un testo, uno dei passaggi, dei messaggi che la Madonna ha dato a Don Stefano Gobbi con il quale oggi vi affido e vi consacro tutti nuovamente al cuore immacolato di Maria proponendo a tutti di ritornare a dare fiducia non dico al sottoscritto ma proprio alla missione che la Madonna mi sta affidando in questi tempi così difficili per il bene delle anime. Dice la Madonna a Fatima in Portogallo il 15 marzo del 1993 a Don Stefano Gobbi, ti ho voluto qui per dirti che ora dovete entrare tutti al più presto nel rifugio sicuro del mio cuore immacolato. Come Noè in nome del Signore invitava a entrare nell'arca coloro che dovevano essere salvati dal diluvio, così ora tu mio piccolo bambino in nome della tua mamma celeste devi invitare a entrare nel rifugio del mio cuore immacolato coloro che devono essere protetti, difesi e salvati dalla grande prova che ormai è giunta per la Chiesa e per tutta l'umanità. Protetti, difesi e salvati. Noi nel cuore immacolato di Maria con lo spirito di Verona siamo protetti, cosa dovremmo temere? Difesi e salvati, dice la Madonna, dalla grande prova che ormai è giunta per la Chiesa, qual è questa grande prova? Che tutti avrebbero cercato Gesù senza trovarlo. Vi ricordate figlioli cari, ne abbiamo parlato, per questo mi invito adesso ad essere saggi, intelligenti nello spirito. Quando abbiamo citato i messaggi che la Madonna ha dato nel 1600 a Sor Mariana, mi pare che si chiami in Ecuador, la Madonna del buon successo, quando vede questa suora che viene spenta la luce del tabernacolo e la Madonna dice che la massoneria avrebbe poco per volta lavorato alle profezie che avrebbero condotto all'abominio della desolazione. Ed è una cosa che poi il cielo ha fatto vedere anche alla beata Alessandrina da Costa, lei che era innamoratissima dell'Eucaristia, tanto che Gesù le propose la pratica dei primi sei giovedì di mese in riparazione dei tabernacoli dove egli ha abbandonato, eppure Gesù le fece vedere un giorno un angelo che andava a spegnere la luce del tabernacolo e angosciata, angosciata, la beata Alessandrina chiese che cosa significasse questo e Gesù le spiegò che starebbe per arrivare il tempo dell'abominio della desolazione e aggiungeva, ma non abbiate timore, vi ho dato come rifugio l'arca di Noè, la nuova arca di Noè che è il cuore immacolato di Maria mia madre e dice allora la Madonna per proteggere, difendere e salvare dalla grande prova che è ormai giunta per la Chiesa. Ti ho voluto qui perché devi comunicare a tutti che ormai siete entrati negli avvenimenti che vi sono stati da me predetti e che sono contenuti nella terza parte del segreto di Fatima che non vi è stato ancora svelato. Ora esso verrà reso palese dagli stessi avvenimenti che stanno per accadere nella Chiesa e nel mondo. La mia Chiesa sarà scossa dal vento impetuoso dell'apostasia e della incredulità, e questo è ormai sotto gli occhi di tutti naturalmente, mentre colui che si oppone a Cristo entrerà nel suo interno. Occorre che vi dica io di chi sta parlando alla Madonna? E se avete consapevolezza dentro il cuore immacolato di Maria del senso di queste profezie, coraggio, coraggio che siamo dentro l'arca e con noi c'è la Madonna, mai un consacrato di Maria, dice il Monforte, sarà ingannato da Satana. Mi dispiace per quelli che l'abbiano pensato verso il sottoscritto, mai un consacrato di Maria sarà ingannato da Satana. Sono parole solenni del Monforte, la Madonna lo garantisce, io li difenderò, io li proteggerò, io li custodirò. La mia Chiesa sarà scossa dal vento impetuoso dell'apostasia e dell'incredulità, mentre colui che si oppone a Cristo entrerà nel suo interno. Questo è il falso profeta, questi è colui che si metterà al posto di Dio arrivando fino al soglio di Pietro, portando così. Quindi è questo personaggio, è questo tale, dice la Madonna, è la Madonna che parla figlioli cari, che porterà così a compimento l'abbominio della desolazione che vi è stata predetta dalla Divina Scrittura. Per questo la Madonna ci invita a consacrarci sempre nuovamente al cuore immacolato di Maria. Conclude la Madonna nel messaggio, nell'altro messaggio che ho preso per voi in Australia l'8 dicembre 93. Allora io chiamo da ogni parte i miei più piccoli figli a consacrarsi al mio cuore immacolato, ad affidarsi a me come bambini. Infatti ho sempre detto che questa missione che sto portando avanti, per cui le piglio da tutte le parti, le piglio veramente da tutte le parti, è una missione che io sapevo essere proibitiva, difficile, che avrebbe comportato alla fine anche diciamo l'incredulità da quest'altra parte e per questo io dico alla Madonna sempre che voglio essere come un bambino di due mesi tra le sue braccia. È così, dice la Madonna, nel giardino del mio cuore immacolato ogni giorno mi formo la nuova Chiesa. Attenti qui, di fronte a una falsa Chiesa, c'è tutto scritto qui nei messaggi che la Madonna ha dato a Do Stefano Gobbi e che io ho ricevuto come incarico di rileggere a Fatima dalla Madonna stessa, di riprendere in mano i messaggi di Do Stefano. Di fronte a una falsa Chiesa che porta l'abominio della desorazione, cosa facciamo? Ci smarriamo? No, siamo dentro l'arca di Noè che è il cuore immacolato di Maria e poi anche la Madonna ci dice che si forma una nuova Chiesa, santa, unita, fedele, annunciatrice del Vangelo che dà la sua perfetta testimonianza a Gesù. Questi sono gli anni in cui Satana domina da vincitore sicuro. Questi sono perciò anche gli anni del mio trionfo. Avete capito? C'è l'abominio della desolazione. Perché vi impaurite? Perché vi preoccupate, vi angosciate? Questi sono gli anni, dice la Madonna, in cui Satana domina da vincitore sicuro. Questi perciò sono anche gli anni del mio trionfo. La mia luce diventerà sempre più forte quanto più entrerete nei momenti decisivi della battaglia. Ecco, ho voluto leggere questo paio di messaggi proprio per dare nuovamente fiducia a tutti voi che vi siete un pochino smarriti di fronte alle cose che vengono dette. Abbiate tutto il cuore aperto figli e cari e possiate comprendere alla luce della preghiera che tutti insieme facciamo del rosario i tempi che stiamo vivendo. È il tempo della grande impostura, dell'apostasia. È ormai nato in modo ufficiale l'abominio della desolazione. Si viene, viene spenta la luce del tabernacolo, la presenza reale del Signore per colpa del falso profeta e della falsa chiesa. Ma noi abbiamo il sicuro rifugio che è il cuore immacolato di Maria e dentro questo cuore siamo certi di non poter essere ingannati. Invito tutti voi a pregare ogni giorno con fiducia e forse il Santo Rosario, se possibile per intero tutte e tre le corone. E su tutti voi all'inizio di questo nuovo giorno, mentre vi invito a pregare per dopodomani, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E speriamo che dentro l'arca possiamo essere così tanti da dover stare tutti stretti stretti, ecco, rintanati dentro il cuore immacolato di Maria per ottenere la gioia di vedere il trionfo del suo cuore immacolato. Santa giornata a tutti voi e avanti con Maria.